Tanto mi piacerebbe raga che tornasse Janko e Bonmax su console, anche Miki, Miki Italiano Facciamo un team devastante ragazzi, vi aggiungiamo il champ in tre giorni Se troviamo gente solo col pad, in poco tempo, torniamo come prima Ma l'hanno barricato qua raga No, ho sbagliato spawn E sono su console, Shaolin Carica speciale, alla larga Attento Dash, fammi passare Scudo Talon piazzato Ricarico, copritemi Ma che male fanno ste bombette di merda Scudo Talon posizionato Hai perso il disinnescatore Rimane un nemico Il disinnescatore è stato recuperato Madonna che fano, no, no Il disinnescatore è avviato, proteggete il disinnescatore Buonasera signor Tijet Siamo quasi a due anni gabbochissi Ho recuperato il talonotto Ok, proviamo così Bravo Mizuka Minchia, minchia Minchia Fatti tutti lui quasi Cambio caricatore Cambio caricatore Ricarico Mamma mia che scarsi Rimane un nemico Difensori eliminati Missione d'attacco rifiuta Raga ma che scarsi Oh mio dio Quasi quasi rimaniamo su play No, dici Mike No, oggi sta girando bene Ho torto il cross play E sembra funzionare meglio Perché l'ultima volta Raga la gente è piccata Se togliete il cross play Giocate solo qui con play Raga Funziona meglio Giungete la bomba E disinnescatela Occhio aperti per il nemico Io ho paura qua Vabbè che sono già tutti qui Sempre qui cuore Merda Guarda qua che volevano sponchillare Hai perso il disinnescatore Un operatore alleato rimasto Un operatore alleato rimasto Qui la caffordano Quiddattranno H commodore Via 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 abbiamo il disinnescatore porco 2 quanto si è girato lento raga quanto si è girato lento mamma mia quanto si è girato lentissimo l'avevo anche preso cambio caricatore vediamo se riesco a fare il mio spawn kill bomba localizzata ho messo le nostre difese pronto per le granate è già dentro uno dai raga ma davvero sta pushato è ancora vivo buck eh sludge ricarico coprendemi ma che fa questo ah dai l'idea la squadra d'attacco ha attivato un disinnescatore va distrutto disinnescatore individuato distruggetelo dai bro minchia ah pure smirato raga oddio non si può più salire premiamo la squadra preparati al viaggio apritemi ricarico ricarico l'arma dappi ricarico dappi ricarico dappi ricarico ultimo nemico rimasto oddio questo salva la kill quello ha salvato la kill veramente 3-3 per andare negativo raga ma sul serio what the fuck bro ma ancora basta 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 ricarico devo togliere la roba che quando lancio il drone mi dronò automaticamente vedete di salenziarmi merda cialacoglui eh merda manca che pelo raga ma vanno ma vanno Il fattore online è attivo. Il fattore vico è rimasto. Il pugno d'aria è pronto. I fattori neutralizzati. Near full team, boys. Near full team. Quasi. Che stai a raga? Rami, grazie di 42. Ciao, bro. Luggero. Luggero. Fucilioni lanciati. Ricarica. Abbiamo una nuova porta. Fucilioni transposizionati. Fucilioni transposizionati. Raga, ma questi veramente sono scappati di casa, eh? Drono è pronto a partire. Certo. Non stanno dagli occhi. Non stanno dal cuore. No, ziii, minchia, l'ho smirata. Ho smirato il primo flip, cazzo. Questa è stupida, raga. Ha ribiccato. Bro, l'hai visto? Ultimo uomo per la squadra alleata. Squadra d'attacco eliminata. Pensa te, zio. E città hardware. Imboscata pronta. State alla larga. Metra che so, odus. C'è che ho ripreso un po' la manualità col pad, eh? Telecamere in posizione. Nei micro-movimenti ancora devo... Mandrono. Mandrono. Pazzino, mandrona. Fontaine. Fontaine. Ah capisco Cioè non copri nessuno lì Ma lì lui è passato tranquillo No Danny un gioco dove è pieno di cheater non può essere gratuito Io lo farei tornare a costare anche tanto Rainbow Six No non ha senso fare un nuovo Rainbow Six raga Cioè Rainbow Six sarà come CSGO Cioè se io fossi un cheater Un gioco che costa 9 euro Guarda che cazzo fa questo raga veramente Lo che ha ucciso in mano Ma che cazzo stava a fare raga quello là I Maverick La caveira su Playstation ragazzi È tornata Un nuovo feed attivo Elettrotensori attivo Preparo una mina e te lo rinzate Spezio attivo Circonformazioni Vedete che su Rainbow Six dovrebbero mettere la visuale libera Con la testa Adesso stare fermo Muovo la testa e guardo a sinistra Faccio questo movimento qua con la testa Senza muovere il corpo Invece su Tarkov Esatto raga Hanno trovato una bomba Proteggetela Raga ma dove sono Raga ma dove sono No raga guarda quanta vita L'ho lasciata Raga per farvi capire il rinculo di sto gioco su play C'è gente che sa usare L'MP7 con la canna lunga È qua È qua È qua È qua È qua Cavo 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 Bravo Sessione Arrivato Settatore di bombe piazzato Ultimo nemico rimatto Dai Eosa C'ha due a capizio Mira Mira Perché non mira questo Ricarica Win 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 Che bello vedere Caveira lì raga Con la ciupinazzo Grazie per il valore ragazzi Ovviamente Grazie 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 Grazie